bella a tutti ragazzi sciogari benvenuti e bentornati benvenuti in kiwi oh mi siete mancati tantissimo bravi 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 di essere tornati ne sono proprio contento e quindi iscrivetevi al canale attivate la campanella mettere like o commentare che va tutto il coso che dovete fare sempre mi raccomando ragazzi non mi stancherò mai di dirvelo perché oggi come avete letto da qua sotto al titolo che ci sta qua sotto andremo a vedere i 10 cosplay più epici che google ci suggerisce faremo così 10 li andremo a vedere su google e 5 andremo a vedere su instagram ok dove mi dovete anche lì seguire mi raccomando ragazzi quindi andremo a vedere e daremo un voto da 1 a 5 per ogni cosplay che andremo a vedere che il mondo del web ci suggerisce ok ragazzi quindi iniziamo subitissimo dopo che ti sei iscritto qua sotto al canale dovrebbe stare qua credo non lo so scrivi clicca iscriviti qua sotto che è gratis non te costa niente per una volta che ci sta qualcosa di gratis approfittane va bene ok iniziamo subito allora cosplay epici vediamo a vedere cosplay epici o allora c'è sta andiamo a vedere subito c'è sta questa mamma di credo sia di 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 cos'è di non mi viene il nome del trono di spade credo non ho mai visto il trono di spade e sì ragazzi non ho mai visto il trono di spade gamma fa è chiaro che ma fa però mi piace l'idea di ammettere anche i bambini figli così da traghetti trago traghetti ci sta l'idea mi piace molto quella credo sia la reggina di draghi credo non lo so scrivetelo qua sotto nei commenti se mi sto a sbagliare ok mi piace voto da 1 a 5 voto 4 perché si è impegnata si vede l'impegno poi ne ho avanti e ci sta questo sub zero che credo sia della straniero americano non lo so perché vedo un pass dal 2015 in inglese quindi non lo so però ci piace ci piace molto voto da 1 a 5 voto 4 4 perché non lo so non lo so il fisico ci sta però si può non so cosa si può essere meglio però ci sta voto 4 devo proprio essere wow capito poi andiamo avanti ci sta quest'altra che viene da los angeles perché leggo un loss los angeles di attack of titan e ci sta però vedendo tutto il posto è abbastanza semplici diciamo a parte cosa che c'è tutta sta armatura qua dietro che io non riuscire a farla sinceramente se ci provo non mesce così sicuramente mesce una caccata peggio però vabbè voto da 1 a 5 voto 3 dai siamo cattivi siamo cattivi oggi tutto invece c'è non c'era questa non l'ho capita le personaggio non lo conosco credo che sia un di un videogioco questa allora non mi sembra un fotomontaggio non mi sembra un fotomontaggio ma se davvero cioè se davvero tipo una disabile che non c'ha una gamba ok e ci ha fatto il cosplay in questo cosplay ci ha fatto così che rende tutto più ma chapeau tu non ti prendi 5 ti prendi mille 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 ti prendi e perché porca miseria brava ci piace così brava perché io non credo abbia messo al contrario cioè ci mi sto avvicinando per vedere magari può essere qualcosa la scrivetelo nei commenti se una cosa del genere lo può fare una persona che che c'ha comunque due gambe così perché se no non non mi spiego la gamba dietro piegata non si vede piegata dietro e complimenti chapeau chapeau brava brava a chiunque tu sia andiamo a vedere se sotto sta no questa è un'altra persona non è lei mi sa che lei ha fatto solo quello con la gamba bozzata credo e ok andiamo avanti ragazzi andiamo avanti questo è un prodotto che ben lo vendono questi invece sono di jojo io non ho mai visto jojo quindi non so cosa stia succedendo in questa foto voto da uno a cinque voto tre così andiamo avanti poi questo è un prodotto di nuovo questo invece è pure l'elena cosplayer invece andiamo a vedere sempre non so chiunque tu sia però mi piace l'hai fatta l'armatura molto bella molto bella voto 4 da una 5 4 continuo a messere cattivi questa invece è la regina elisabetta diciamo sul trono di spade it was me ok e mi piace bella bella la regina elisabetta sul trono di spade beh perché ci sta ci sta e che secondo me è sempre la stessa secondo me è cambiato il trono ma secondo me è sempre l'immortale elisabetta brava brava la regina ci piace brava e voto da uno a cinque voto 4 4 continuo a messere cattivi questa velocità di un di un di un evento cosplay quanti siamo arrivati aspetta che li conto 1 2 3 3 4 5 6 7 siamo arrivati a 7 questo è l'ottavo l'ottavo non so chiunque tu stia non conosco il personaggio sinceramente però mi piace e secondo me il 5 se lo merita raga il 5 questa se lo merita non so che personaggio sia ma tutta sta attrezzatura che c'ha un testa questo vestito tutti così strappati mi piace parecchio quindi per me voto 5 popometria brava chiunque tu sia andiamo avanti di amore dell'ottavo questo è il nono vabbè raga stiamo chiudendo proprio in bellezza da google ci piace bravo non so non c'è scritto il nome del personaggio voto da uno a cinque voto 5 ragazzi è il top questo è bravissimo non so chi è però mi piace tutto è molto realistico devo dire è tutto molto realistico questo cosplay e ci sta ci sta bravo 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 molto bravo sono queste 9 andiamo a vedere al decimo chi si chi si prenderà il decimo posto no il decimo posto se lo prende lui boba fett non conosco i personaggi di star wars diciamo si raga non conosco i personaggi di star wars non conosco così per sentito di vabbè andiamo avanti questo voto 5 raga perché veramente fatto molto 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 bene cioè oltretutto cioè è una rivisitazione è stato intelligente perché ha fatto una rivisitazione del personaggio di questo personaggio che molti lo fanno lei ha detto io voglio essere originale lo devo avere solo io sto cosplay quindi ha fatto questa variante in questa variante in samurai diciamo che ci sta ci sta parecchio bravo voto 5 anche tu mi piace molto mi piace brava mi piace mi piace molto tutti bravo gli ultimi gli ultimi tre hanno avuto bella 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 cosa ora andiamo a vedere invece su instagram andiamo su cerco scriviamo cosplay epici andiamo a vedere andiamo a vedere perché non vediamo i tag i tag i tag di cosplay no non mi esce se scrivo solo cosplay su instagram vediamo cosplay ecco è epici raga accontentiamoci dei primi 5 cosplay che ci vengono proposti non andiamo sui video andiamo solo sulle immagini quindi prima immagine questa non conosco il personaggio uof uof brava 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 chiunque tu sia voto da 1 a 5 voto da 1 a 5 voto 3 dai 3 siamo cattivi dai siamo cattivi stavolta dai siamo molto cattivi su ok poi andiamo 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 a vedere indietro l'altro personaggio che ci propone è questa spider spider cool spider kiappa spider spider girl ok spider girl e vediamo il vediamo il costume diciamo la 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 ok voto da 1 a 5 voto 5 andiamo avanti a vedere tutte femmine instagram ci suggerisce parecchie femmine speriamo che non è tipo una cosa di razzismo razzismo come si dice così da uomo a maschio a uomo a femmina così abbiamo capito insomma andiamo avanti alla terza cosplay che ci suggerisce instagram e questa non non so che personaggio sia chiuso best girl enjoy enjoy un riferimento a gianluca vacchi non lo so non lo so vabbè comunque voto da 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 1 a 5 tu lei lei per prima ci suggerisce il voto da dagli voto da 1 a 5 voto 1 contenta tu ce lo suggerisci tu e voto 1 sia vabbè poi andiamo avanti terzo quarto cosplay quarto cosplay quarta immagine cosplay perché tutti i personaggi che non conosco tranne spider kiappa perché questi personaggi che non conosco voto 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 da 1 a 5 voto è fatta molto bene voto 4 4 mi piace non so chi chi sia non so chi siano ma mi piace voto da 1 a 5 4 fatti bene 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 poi andiamo avanti alla quinta cosplayer che ci suggerisce instagram e questa cosplayer che anche lei ha fatto spider man però un po più spider girl quella queen spider ci ha messo più impegno rispetto alla spider girl di prima quindi voi i gatti si stanno a scannare quindi voto da 1 a 5 voto 5 brava mi piace mi piace sta queen spider sta queen spider mi piace e vabbè ragazzi quindi epic bonus andiamo assediamo a vedere quest'altra che ci suggerisce instagram e ok il personaggio credo sia quella di denshin impact perché ne ho viste parecchi questi cosplay così quindi andiamo a vedere andiamo a vedere è una persona o un action figure innanzitutto non so se è una persona o un action figure o qualcosa di di vero vabbè voto 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 5 ok va bene ragazzi e quindi e vabbè ragazzi quindi abbiamo visto il cosplay che ci suggerisce instagram e che ci suggerisce google google più nel dettaglio sull'epic infatti gli ultimi cosplay di google erano veramente proprio fatti bene quelle liste di stagnami invece erano diciamo così diciamo che vabbè ragazzi quindi non so se voi ci siete nel video non credo perché la maggior parte erano tutti stranieri e vabbè sarà per la prossima ragazzi sarà per la prossima anzi facciamo una cosa facciamo una cosa in sul mio profilo in stagnam mandatemi il vostro cosplay che voi avete fatto se tu cosplayer mi stai guardando mandami su instagram indirect la foto del tuo cosplay preferito e se arriviamo ad almeno 15 foto 15 immagini di voi cosplayer che mi state guardando 15 immagini farò un video solo per voi dove darò un voto da 1 a 5 e vabbè quindi vediamo sta cosa nuova come esce mi raccomando ragazzi seguitemi anche su instagram keyword che poi tutti così mechiamo vabbè ragazzi noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale e Grazie a tutti.